Sgarbi, sempre a titolo personale. Illustri colleghi, Avvocato Conte, abbiamo perso tutto, abbiamo perso la libertà, abbiamo perso la scuola, abbiamo perso il lavoro, abbiamo chiuso i musei, i teatri, i cinema, le palestre, i ristoranti. Non è una crisi al buio, è in piena luce. Lei invece ha semplicemente perso la protezione del suo padrino che lo ha sfiduciato. Il capo del PD, Zingaretti, non la voleva. Volevo ricordarle effettuosamente che lei non è indispensabile, che lei non è stato eletto, che lei è stato voluto da Renzi sia onesto, sia responsabile, sia costruttivo, si divetta e vada in Cina!